Benvenuti su meteogiuliacci.it. Oggi mercoledì 16 maggio, nubi e rovesci già dalla mattinata sulle regioni di nord-est e poi dal pomeriggio anche sulle regioni centrali per il passaggio di una perturbazione proveniente dal nord Europa. Perturbazione che sarà anche seguita ad aria fredda che porterà oltre che ad una diminuzione della temperatura anche a nevicate sulle Alpi a quote insolitamente basse per questo periodo. Andiamo a vedere le immagini del satellite. Vedete la nuvolosità che interessa le regioni di nord-est e che poi durante il pomeriggio si sposterà verso l'Adriatico. Andiamo a vedere allora che tempo farà nella giornata di oggi. Al mattino bel tempo sulle regioni di nord-ovest e sulle regioni meridionali. Nubi con rovesci sulle regioni di nord-est, sull'Emilia, sulle Marche, sulle zone interne della Toscana e nevicate sulle Alpi a quote intorno ai 800-900 metri sulle Alpi occidentali fino ad arrivare a 1200 metri su quelle orientali. Nel pomeriggio ancora nubi a rovesci sulle regioni di nord-est con nevicate sulla catena alpina centro-orientale oltre ai 1200-1300 metri. Piogge anche sulle regioni centrali e sulle zone interne delle regioni meridionali. Sereno, poco nuvoloso sulle estreme regioni meridionali ma con nuvolosità e un aumento sulla Calabria e sulla Puglia. Andiamo adesso a vedere le temperature. Queste saranno in calo anche sensibile sulle regioni di nord-est anche di 4-5 gradi. In calo sul medio-adriatico anche di 2-3 gradi. I valori vedete bene dalla cartina che saranno compresi intorno ai 15-17 gradi sul nord-est sul medio-adriatico, intorno ai 19-21 gradi invece sul resto dell'Italia. Bene, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona giornata.